David e Victoria Pecca, ma sono davvero impareggiabili. La coppia animatrice del Jet Set Internazionale ha assunto due nuovi camerieri a Beckingham Palace, così gli inglesi chiamano la lussuosa residenza toltremanica di David e Victoria. E per essere perfetti in ogni dettaglio, la scelta è caduta su una coppia omonima. A pulire le scale e a rastrellare i giardini della lussuosa magione sono arrivati Victoria e David, fan e alter ego in sedicesimo dei padroni di casa. Victoria è una brunetta proprio come Osh, vive a Harlow dove l'ex Spice Girl è nata, guida una BMW nera di seconda mano e adorerebbe vestirsi come la mitica padrona di casa. Il suo compagno, come l'omonimo datore di lavoro, è un rubacuori. Improbabile comunque che i due nuovi assunti riescano a incontrare direttamente i loro idoli, che in questo momento sono soprattutto assenti. David è in Italia dove gioca brillantemente per il Milan. Victoria fa la pendolare tra Milano e Los Angeles.